Ciao a tutti ragazzi, sono Gio e questo video è un video molto 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 particolare che praticamente tantissimi americani hanno fatto, non ho visto nessun italiano che l'ha fatto finora ed è un pacco opening ragazzi, sì, io contrarissimi al pacco opening, ne faccio uno, però siamo su Advanced Warfare e cosa c'è di strano? In pratica su Advanced Warfare è tipo, non so come si prendono questi pacchetti qua, i lanci di rifornimenti non so come si prendono, però del tipo facendo un torri di morti, facendo un torri di sfide vi arrivano dei lanci di rifornimenti dove voi potete trovare delle armi, dei vestiti, vestiari eccetera speciali e noi adesso cercheremo di trovare qualche cecchino figo, in ogni pack di solito si trovano tre oggetti oppure uno oppure due, non lo so, vedete tantissimi tagli perché prima si possono raccogliere massimo tre pacchi alla volta e quindi dovrò fare prima tre pacchi, poi andare online, giocare, continuare a giocare, prendere altri tre pacchi e fare altre registrazioni, quindi partiamo subito col primo pack opening ragazzi, attenzione, brividi, brividi primo, no quella prima non è il primo, facciamo questo per primo, un cecchino, un cecchino le ginocchiere bello allora abbiamo un sn6 the third che è elite, se vedete in alto c'è scritto elite quindi sono quelle che sono più rari le ginocchiere marce e il ball arancione vabbè quel primo pack non è malissimo, vediamo il secondo ecco maia ricognitore atlas c'è cazzo raga abbiamo preso una maglia in un pacchetto e poi la k12 beater non me ne faccio nulla voglio un cazzo, voglio cristiano ronaldo, messi, ibraimovic, capo di squere dei guanti rinforzo professionista, dei guanti e il capo e fece bello ok raga eccoci con altri tre pacchi, partiamo subito con questi qua e boh scendiamo prima questo dai ma che merda un cecchino vi chiede niente di più un tevetz tots, un pigslip, un wager, ma vaffanculo c'è qualsiasi cosa elite che mi capita o sono dei punti doppi per 10 minuti, vabbè o sono dei pantaloni marcissimi ok madonna ma pure che non sto registrando o sono dei pantaloni marcissimi o delle armi del cazzo ultimo pack attenzione dov'è? dove è finito? eccolo qua ultimo pack raga ho paura cioè vedete qualsiasi cosa elite che mi capita sono delle cose marcissime cos'è un'altra meno uscita? no io lascio gli ultimi tre pacchi e saluti finali se riuscirò a prendere altri tre pacchi spero ok ragazzi eccoci agli ultimi tre pacchi avevo registrato altri tre pacchi solo che non mai avevo registrato nel gatto perfetto dunque alla fine vi farò vedere che avevo registrato che avevo tratto due minchiate comunque partiamo subito sono gli ultimi tre pacchi prima di riaprirle volevo dirvi che se mi piacciono questi pacchi open ricordate ditemelo che ve ne porterò altri ovviamente andiamo col primo nasce dei rifornimenti ho paura allora primo pack veramente di merda un parastinchi marcio st'arma e vabbè o esce qualcosa di nigeriano apposta per me oh punti doppi per 45 minuti questo mi piace e un'altra armatura di merda dove fanno cagare vabbè e tipo l'ultimo ragazzi questo è l'ultimo non guardo non guardo brividi giro cos'è cos'è delle ginocchieri marcissime nere classiche cos'è sta arma che cazzo ce l'ha attaccato e questo dai vabbè il cazzo di porta sovraccigli di gesù cristo comunque ragazzi spero che questo pacco opening vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace un bel commento e iscrivete al mio canale passate dal link in descrizione e più tutte le info troverete in descrizione ci vediamo non so quando creerò sto video perchè sta settimana in pratica sto giocando adesso è sto weekend il weekend che c'è stato anche il lunedì che siamo stati anche a casa e ho registrato tipo 4 video e quindi boh mi piace boh mi dicevo vuoi registrare registrato e mi sto bamberando in ciancere e da giù è tutto bella il secondo pac tipo ottavo l'ultimo oh oddio questo è fighissimo no questo veramente ci sta un sacco porca puttana però questo è strazzurdo